Dopo tutti questi anni, mi sono trovata un nuovo corpo! Rita Repulsa? No, non può essere. È l'ora della vendetta! No! Ha ucciso mia madre. Dobbiamo distruggerla. Qui ci vogliono i Power Rangers. Lascia che ce ne occupiamo noi. Ha creato un portale del tempo. Vi farò fuori prima che Zordon pensi di trasformarmi in Ranger! Dobbiamo fare in modo che non faccia del male a nessun altro. Attenzione, Power Rangers! Recatevi tutti alle stazioni assegnate. Una volta Ranger... Ranger per sempre. Trasformazione! Capolinea, signori. Volete fare a botte? Accomodatevi! Potete farcela. Buona fortuna. Allora è una rimpatriata. Venire qui dentro è stato uno sbaglio. Tranquilla, abbiamo già salvato.